Una vergogna, mi tolgo anche la mascherina, il commercio in Italia sta andando a rotoli, a rotoli, ho aperto il take away e il delivery da mezz'ora, sono già stati qua i vigili del comando dei vigili di Verona in Borghese per dirmi che devo chiudere gli ombrelloni perché gli ombrelloni devono stare chiusi e non devo avere il cartello che pubblicizzava che chi vuole telefonare per fare il take away o il delivery, ma vi rendete conto in che mondo viviamo? Ma vi rendete conto? Che vergogna! Il commercio sta morendo, è 45 giorni che siamo chiusi e questi si permettono il lusso di venirmi a dire lei deve chiudere l'ombrellone, lei deve spostare il cartello. Ma vi rendete conto la vergogna del comune di Verona? Ma è possibile che nessuno si lamenta di questa cosa? È una vergogna e tutti devono sapere. Io non ho parole e spero che qualcuno pubblichi questo mio sfogo perché è una vergogna. Il commercio sta morendo e questi si sono presi la briga di venire a dirmi l'ombrellone deve stare chiuso, non può essere aperto e il cartello non può stare fuori. Ma vi rendete conto ragazzi? Invece di dire bravi commercianti che vi date una mano per fare in modo di riprendervi, ci stanno bastonando. Appena abbiamo messo il piede fuori dalla porta, primo giorno di apertura, dopo un'ora erano già qui pronti, pronti a fare la multa. Ma vi rendete conto? Dovete assolutamente aiutarmi a far casino perché non è possibile, bisogna ribellarsi, una guerra civile ci vuole.